Sparatoria ieri sera in via Irno a Salerno dove è stato colpito Vincenzo Ventura, nipote di Ciro Donofrio, ucciso due anni fa a Pastena. Il giovane, ferito alle gambe, è stato trasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto, gli uomini della squadra mobile di Salerno che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti. Ventura nei giorni scorsi era stato denunciato da Gaetano Siniscalchi, padre di Eugenio e Gennaro, entrambi accusati dell'omicidio di Donofrio, di aver esploso un colpo d'arma da fuoco contro la portiera della sua auto nel giorno in cui avevano arrestato il maggiore dei suoi figli. Da tale denuncia era scattato e nel discorso il fermo sia nei confronti di Ventura che di Carmine Donofrio, ritenuto complice dall'accusa. Il fermo però non è stato convalidato dal GIP per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, di cui la possibile pista della vendetta.